manuel bortuzzo ha abbandonato il grande fratello vip 6 la decisione era nell'aria anzi era stata proprio annunciata ma la serata è arrivata sarebbe dovuto uscire già qualche puntata fa ma in accordo col gf vip evidentemente hanno aspettato fino a oggi stasera però il nuotatore ha fatto la sua scelta manuel è uscito dalla casa nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio 2022 alfonso si è collegato con la casa chiamando manuel e lulu nella nave dell'amore ha mostrato insieme a loro gli ultimi giorni dei due insieme nel reality show e le lettere d'amore che si sono scambiati profonde promesse d'amore manuel in confessionale ha detto che avrebbe abbandonato il gioco ma non lulu lei non faceva altro che baciarlo durante il filmato e le sue sorelle erano commosse la loro relazione è cominciata con tanti bassi e pochi alti ma da qualche settimana bortuzzo ha invertito la rotta e sembra davvero preso da lulu ha persino parlato di per sempre di voler sposare la principessa e adesso ad attenderli ci sarà la vita forse dovranno aspettare un po perché lulu è tra i preferiti del pubblico e non uscirà molto presto alfonso ha parlato con la coppia prima di fare la fatidica domanda al concorrente per esempio ha chiesto a lulu se ha pensato a cosa succederà nella casa senza manuel lei mi mancherà moltissimo è ovvio come farò semplicemente stando con le persone che mi vogliono bene qua dentro c'è mia sorella sofì miriana federica natali e anche manila ci ha sempre aiutati a me e manu non sono manuel però mi sentirò meno sola grazie a loro manuel ha detto invece che ne approfitterà di questo tempo per rimettersi in sesto per poi ricominciare con lulu più forti di prima quando lei uscirà dal gf vip vuole rimettersi a posto ha specificato manuel vuole abbandonare la sedia quando passano gli anni arriva un momento in cui ci credi ma ci credi poco trovare uno spiraglio di luce che ti abbaglia e ti fa credere ancora di più in automatico ti dà forza crederci in due è meglio che in un uno crederci in tanti è meglio che da solo questo mi dà speranza non vedo l'ora signorini ha lasciato da soli la coppia per qualche minuto prima di chiedere a manuel di dare la sua risposta definitiva dopo la pubblicità bortuzzo ha confermato di voler lasciare il grande fratello vi per me finisce qua sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene la serenità per me è collegata alla situazione fisica non ce l'ho e quindi non posso neanche trasmettere non ce l'ho e quindi non ci vediamo